Sono contentissima e mi sento un peso in meno, dico la verità. Poi mi sento benissimo, mi sono dato bene, sono stati gentilissimi. Fatelo tutti, fatelo tutti. Anche perché se non fai la terza dose non ti fanno lavorante, non ti fanno niente. E non la chiamano dittatura, secondo me. Un pochettino ce stiamo. Non c'è nessun problema. Purtroppo la pandemia non è stata inventata da case farmaceutiche, al contrario di quello che si dice. Andava fatto per la ripresa del paese, pur che altro per proteggere i nostri genitori, per proteggere la gente più anziana. È un fatto morale, è un dovere, giusto? C'è che non funziona perché comunque il Covid si può prendere lo stesso. Io lo faccio perché devo, perché ormai anche per lavorare, per uscire di casa e per respirare uno deve farlo. Cosa posso fare? È un grosso sollievo, non una grossa scocciatura. È un piacere. Guardi, io mi occupo di ricerca, quindi se mi dicono di farlo vuol dire che c'è una buona ragione per farlo e sono contenta di farlo, perché questa cosa la dobbiamo superare. Non è un grande problema. Speriamo che non ci sia 3 senza 4, 4 senza 5, 5 senza 6, insomma. Se no magari diventa un pochino più faticoso. Però massima disponibilità sperando di non chiuderci perché quello sarebbe molto più faticoso della terza dose.